Secondo alcuni opinionisti e secondo il Governo regionale, il Molise sta crescendo e lo attestano, a loro dire, gli ultimi dati dello Svimez. In realtà, la miseria e la disperazione che si registra da qualche anno in questa regione non ha uguali né precedenti. In altre zone d'Italia, il Governo regionale, in vista delle prossime elezioni, cerca di illudere i molisani attivando percorsi formativi e di orientamento destinati a un migliaio di persone in stato di sostanziale povertà, ma paradossalmente sbaglia i bandi o li diversifica nelle diverse zone interessate. È il caso dei tirocini formativi in favore delle persone in difficoltà economiche. I bandi verranno gestiti dai diversi ambiti territoriali di zona, ma mentre per gli ambiti di Termoli e Larino si chiede il certificato di disoccupazione e relativa dichiarazione ISE, per quello di Campobasso non è richiesto tale certificato di disoccupazione. Due pesi e due misure, decise evidentemente per poter mischiare le carte. La normativa ministeriale in vigore, invece, prevede tre classi di appartenenza, disoccupati, inoccupati e non occupati, ovvero coloro che non sono iscritti ai centri per l'impiego. Dunque, che fine farebbero i non iscritti al collocamento? Si tratta di una oggettiva discriminazione che mette a rischio il bando già pubblicato. Il compenso per i tirocinanti sarà pari a 3.000 euro pagati dalla regione, ovvero 500 euro al mese per sei mesi. Ancora più eclatante il bando da 1.600.000 euro destinato per metà agli over 30 residenti nel perimetro dell'area di crisi e la restante metà di 800.000 euro destinata ad altre aree del Molise. In questo bando è previsto un compenso variabile da un minimo di 200 a un massimo di 500 euro per ogni pratica destinato non ai disperati senza lavoro ma ai privati, soprattutto enti di formazione che aiutano l'aspirante tirocinante a preparare la documentazione richiesta. Inoltre sono previste quattro classi da assegnare ai partecipanti, bassa, media, alta e molto alta. Ovviamente le agenzie private potrebbero puntare per tutti alla classe molto alta al fine di incassare i 500 euro di profitto per ogni pratica. L'Agenzia Nazionale per il Lavoro invece prevede un punteggio per la cosiddetta profilazione da 0 a 1 punto. Dunque resta il giallo su come verranno attribuiti i punteggi per definire la graduatoria avendo inserito nel bando ben quattro classi. In questa situazione i centri per l'impiego con la loro discrezionalità potrebbero favorire qualche ente di formazione più amico degli altri a scapito dei disoccupati aventi diritto. Resta comunque un fatto che si tratta di misure palliative che non risolveranno il dramma dei disoccupati. Servirebbe invece una politica attiva per il lavoro in grado di creare occupazione stabile e un piano di sviluppo basato sulle risorse endogene del territorio. Il fumo negli occhi del clientelismo elettorale non serve più a niente e a nessuno.